Altri sono invece, io ritengo che specialmente in molte zone della città, io sto molto in giro per la città, che molti agrigentini sono orgogliosi del sindaco che hanno e pensano che nonostante le difficoltà stia dando veramente il massimo per la sua città. Forse collaborato poco da una classe politica che ormai asfittica, ma io ho la mia teoria, non è perché i nostri rappresentanti nei parlamenti regionali, nazionali o nei governi, o nel governo regionale in particolare, siano ostili, forse qualcuno sì, qualche altro meno, ma in realtà io penso che ci sia un decadimento della politica, una crisi della politica, una crisi anche degli esponenti della politica che non sono più all'altezza culturale, morale, come dire, non hanno più le capacità e vi è una classe burocratica invece che prende sempre più piede, che sfora sempre di più nel campo della politica. Dicevo oggi in un convegno proprio al parco della Valle dei Templi che io non so chi sia l'assessore regionale ai beni culturali, so perfettamente che è il dirigente generale ai beni culturali, ovvero Gesualdo Campo, che tra l'altro ci vuole togliere il parco archeologico, una delle due istituzioni importanti, e questa funziona ancora, funziona sul serio. La vecchia regola è che gli assessori cambiano e i dirigenti restano. Sì, certamente, il politico è transeunte, il dirigente è stabile, il dirigente ha una competenza superiore, e meno male, perché serve per questo, guai se non l'avesse, del politico, ma il politico è fondamentale, deve essere all'altezza del suo ruolo, perché il politico è che guarda gli interessi dei cittadini, il dirigente, il burocrato non guarda mai gli interessi dei cittadini, guarda a mettere a posto le carte, a fare le cose in maniera regolare, quando una persona per bene, ma mai guarda l'interesse pubblico nella sua dimensione vera. E allora è necessario che ci sia la dialettica tra il politico che fa l'interesse pubblico e il burocrate che deve fare, mettere a posto le carte, come si suol dire, ovvero osservare le procedure di legge, ma essere il più veloce possibile, perché poi c'è l'alibi che la burocrazia si costruisce per non fare nulla, ma quella è la burocrazia cattiva, quella malata, io parlo della burocrazia buona, purtroppo minoritaria rispetto a quella cattiva. Le tematiche e le problematiche che maggiormente affliggono attanagliano la città di Agrigento, il lavoro di giunta, dunque le attività amministrative nel senso letterale del termine. È notizia di oggi che l'Assemblea del lato rifiuti GES Agrigento 2 ha approvato il nuovo bando per l'affidamento del servizio, scongiurando peraltro il licenziamento degli esuberi. Nello stesso frangente l'amministrazione comunale di Agrigento, tramite il sindaco Zambuto, ha annunciato un referendum a carattere regionale, quindi una raccolta di firme sull'intero territorio regionale, per promuovere radicalmente l'abrogazione dell'attuale normativa. Un altro treno merci che si scontra con un altro treno merci in corsa, una stridente contraddizione di... Perché la contraddizione? Spiegamelo, tu la faccio io la domanda. Qual è la contraddizione? Perché da una parte si va verso il mantenimento, la prosecuzione dello status quo, mentre invece il sindaco con un referendum abrogativo propone assolutamente una rivoluzione radicale nel senso della restituzione del servizio ai comuni. Peraltro saltando il fosso rispetto alle società dei servizi regionali, ossia le società che avrebbero dovuto già subentrare agli ato per effetto della nuova normativa, per effetto anche dell'esito referendario, e invece ciò non accade. Il sindaco Zambuto ha dichiarato testualmente che tantissimi comuni non sanno nemmeno terminologicamente che cosa siano le SSR. Sì, è verissimo, ha ragione il sindaco ed è una battaglia che dobbiamo continuare e dobbiamo continuare tutta assieme. Qual è stato il problema degli ato? Gli ato sono stati costituiti per realizzare delle economie di scala, per aumentare la platea dei contribuenti, per innovare la raccolta attraverso un aumento della raccolta differenziata, però di tutto questo, gli ato, tutti questi obiettivi li hanno falliti, tutti. Gli ato sono stati gestiti, si sono costituiti per realizzare forme, come dire, anglosassoni di gestione, gestione integrata che realizzava, ripeto, economie di scala, e invece sono stati gestiti con il modello siciliano, con il modello delle clientele, del carrozzone, del centro di spesa che serve per realizzare ai fini elettori benefici a chi ha le mani dentro. La verità è solo esclusivamente questa, però c'è un fatto, noi abbiamo delle bollette troppo alte, altrove, nel nord Italia, le bollette sono la metà di quelle che paghiamo noi. La gente impazzisce perché dice, io ho un servizio pessimo, è una bolletta altissima. L'ex sindaco Sodano, che si è seduto pochi giorni addietro, dove adesso sei seduto tu, ha dichiarato che alla sua epoca, che non è una epoca remota, ma è fino al 2001, e comunque l'appalto fu siglato fino al 2004, l'appalto della nettezza urbana costava 6 miliardi di lire all'epoca, adesso invece costa 12 milioni di euro, quindi 24 miliardi di lire, quadruplicato rispetto ad un servizio che è sicuramente meno efficiente oggettivamente e rispetto anche ad una pressione fiscale sui cittadini che non ha precedenti. Io non so quanto costasse prima il servizio, so però che le bollette erano di gran lunga e inferiore, lo erano perché il Comune ci metteva una parte dei soldi e soltanto in parte venivano caricati attraverso la Tarso, allora, ai cittadini. Bisogna dire che talvolta, e questo lo dico per inciso, i problemi qualcuno rileva che il servizio della nettezza urbana, che è la prima cosa, non è eccellente, che delle zone della città vengono in qualche misura trascurate, ma vogliamo dire, altrimenti noi responsabilizziamo tutti di chi è la responsabilità della pulizia della città di Agrigento, di Favaro, di Raffadali, o di Real Monte? La responsabilità è del lato, perché questo è, a differenza di quanto c'era Sodano seduto, la responsabilità di un altro ente, che è totalmente altro rispetto ai comuni che ne fanno parte. Ed è quell'ente, quell'appalto, quel servizio, quel rapporto tra l'enteato e le ditte che si appaltano il servizio, che a loro va imputato semmai il difetto nel servizio o la scarsa efficienza del sistema. Ed ecco perché chiedete la restituzione al Comune. Addossare al Comune, qualcosa che il Comune non fa, sul quale non può operare se non una volta l'anno tramite l'approvazione del bilancio o qualche atto assembleare, è un fatto che chi lo dice o è in mala fede o non capisce niente. Punto. E allora a questo punto è giusto quello che dice Zambuto. Scusate, se io devo essere ancora indicato come responsabile della polizia nella mia città quando non lo sono, scusate, ritornatemi il servizio. Non avete realizzato un buon servizio, l'avete fatto costare di più, non avete realizzato l'aumento della platea dei contribuenti sulla base del principio pagare meno e pagare tutti e allora mi spiegate che ci state a fare? E allora questo è un concetto importante, è inutile fare l'RSA perché l'RSA complicheranno la faccenda. Non è il problema che c'è Teresa Arrestivo qua è una Teresa Arrestivo allicata e una sciacca. Avremo soltanto una Teresa Arrestivo. Qua il problema è globale. Ci sono tutti i sistemi per ridurre il costo del servizio dell'entezza urbana. Ci sono tanti sistemi, bisogna individuarli. Però vedi, il sindacato, io sono rispettosissimo nei confronti del sindacato, però di tutta la verità deve dire. Non può da un lato fare la battaglia perché le bollette debbono scendere e dall'altro fare la battaglia perché i livelli occupazionali debbono rimanere invariati. Semmai bisogna trovare il sistema per fare coesistere queste due cose. Il sistema per fare coesistere queste due cose ci potrebbe essere e va ricercato immediatamente. E va ricercato, io la ricetta ce l'ho, se non altro, perché è quello per esempio di la cosa che non si sa in genere è che ogni persona, ogni dipendente costa ai cittadini il 30% in più di quello che è il suo stipendio con tutti gli ordini del suo stipendio lordo. Perché ogni persona c'è una sorta di pizzo legalizzato nei confronti della ditta alla quale vengono pagati una serie di somme per la gestione di quella persona. tutta una serie di trattenute non sono delle trattenute sono una cifra che deve servire a gestire il personale o al rischio d'impresa e quant'altro. Se noi prendessimo 100 dipendenti del lato perché c'è un inesubbio e li ponessimo sotto la direzione diretta del lato non delle ditte e questi facessero dei servizi aggiuntivi come per esempio il decespugliamento la derattizzazione il pronto intervento tutta una serie di cose collegate e collegabili per legge al servizio di nettezza urbana noi avremo una città più pulita totalmente decespugliata avremo una città assolutamente migliorata sul piano igienico sanitario e nel contempo pagheremmo almeno il 30% in meno del costo di questi servizi ecco queste cose bisogna realizzarle dunque ci vogliono le ricette per lasciare invariati i livelli occupazionali perché sta causando il diritto dei lavoratori a continuare a dare un reddito ma questi lavoratori li debbono servire alla città molto di più non se ne debbono stare perché finisce il servizio a non far nulla poverini non è neanche per colpa loro è per il fatto che c'è un esubero a questo bisogna andare secondo me immediatamente e questo è possibile e queste due cose possono coesistere la tua ricetta Massimo Muglia in un certo qual modo conferma la tesi secondo cui privatizzare i servizi pubblici essenziali come rifiuti ed acqua nel senso di legarli in un certo qual modo anche ed ovviamente al profitto privato è fonte e causa di maggiore poi pressione fiscale sui cittadini utenti anche l'ultimo referendum che si è svolto ha domandato al cittadino italiano il cittadino italiano ha risposto nel senso abrogativo se si intendeva mantenere la norma secondo cui nella tassa dell'acqua che paga ogni cittadino è compresa anche la percentuale del profitto privato dell'investimento del gestore privato quindi la tua ricetta in un certo qual modo conferma questa tesi che l'epoca delle privatizzazioni dei servizi pubblici essenziali ripeto rifiuti ed acqua è storicamente superata in quanto fallimentare o no? Scuola sanità acqua e rifiuti debbono avere la mano pubblica una mano pubblica intelligente efficiente non clientelare non lottizzatoria non corrotta ma una mano pubblica non possiamo noi dare al privato quello che è un servizio come quello idrico che è fondamentale l'acqua non può essere privatizzata il referendum l'ha detto ma tante battaglie che abbiamo fatto in questi anni certificano un forte interesse da parte di una parte della classe politica penso l'onorale Panepinto ne ha fatto una battaglia epocale noi siamo stati sempre a suo fianco ecco perché i colori politici non servono a niente ed è necessario che si rivedano queste cose tra l'altro da noi nel meridione in Sicilia la privatizzazione delle acque e dei rifiuti ha dato dei frutti pessimi perché probabilmente con modelli anglosassoni queste cose potrebbero funzionare e potrebbero determinare anche la come dire maggiore efficienza quando vi è la privatizzazione in Sicilia questo non accade e in ogni caso c'è il problema che in tutta Italia l'elettorato si è espresso chiaramente che dice che l'acqua e ritengo anche i rifiuti implicitamente non vanno assolutamente messi in mano privata non possiamo venderci le acque tra un po' ci venderemo dunque pure l'aria non è possibile e questo penso che tra poco si tornerà indietro in onore del risponso popolare e del referente certo perché il tuo discorso sulle bollette dei rifiuti è sovrapponibile dalle contesto alle bollette idriche assolutamente sì qua i cittadini pagano per due volte per tre volte un servizio che è per due volte per tre volte peggiore di quello che hanno quelli che lo pagano meno e allora fatemi capire questo non può funzionare i cittadini non possono più tollerare che questo accada e allora che cosa vogliamo vogliamo che sia veramente una rivoluzione la classe politica deve interrogarsi su queste cose e io vedo che c'è una ingessatura io non vedo classe parlamentare che interloquisce con i cittadini Angelo io ho questa sensazione quando vedo il tuo TG ma quello anche delle altre emittenti quando apro i giornali io vedo che il 70% delle notizie di politica riguardano la città di Agrigento o i comuni eccetera non vedo mai notizie che riguardano altri enti se qua non qualche estemporanea uscita di qualche assessore regionale ma di tanto in tanto e poi per essere riterata l'indomani mattina io penso che ormai in trincea ci sono veramente i sindaci e i cittadini riconoscono nei sindaci gli unici interlocutori io non mi ricordo chi sono i deputati eletti nel nostro collegio né alle nazionali né alle regionali i cittadini non se li ricordano e loro fanno in modo di essere dimenticati perché la loro incidenza è assolutamente uguale allo zero c'è qualcosa che non funziona più in questo paese ma che non funziona più sul serio e allora quando qualcuno mi dice cosa fa il sindaco di fronte a questa cosa io gli risponderei ma tu lo sai che hai dieci parlamentari che non fanno i tuoi interessi o almeno così non pare lo sai che hai una provincia con 30 consiglieri un presidente 10 assessori mi dite cosa fanno tutti questi non hanno competenze oggi ormai l'unico presidio l'unico elemento il rapporto con il cittadino rimane il comando agrigento per agrigento raffadali per raffadali favara per favara stai attento non è un ragionamento che vale solo per agrigento io dico che oggi gli unici a fare sul serio a provare a fare gli interessi dei cittadini e ci metto dentro tutti nessuno escluso sono proprio i sindaci di queste città i sindaci dei paesi sono gli unici a stare sulla breccia i cittadini dovrebbero riconoscere questo i loro sindaci che tra tante difficoltà stanno dalla mattina alla sera a lavorare per la loro città quando gli altri invece se ne stanno solo in vacanza scusatemi se lo dico poi alcuni sono pure amici miei di questi deputati hanno questa fortuna avranno una bella pensione avranno tanti benefit io non faccio moralismo su queste cose ma quantomeno portino risultati e ogni anno dicono io ho fatto questo per la mia città altrimenti ci sarà un momento già l'antipolitica sta montando e l'antipolitica è una malabestia e allora bisognerebbe interrompere con una forte presenza anche dei parlamentari nella loro terra questa antipolitica e tentare di ricolmare questo barato che ormai separa i cittadini dai loro rappresentanti barato sta diventando incolmabile grazie a tutti